buongiorno è diventato in un nuovo vlog come sempre inizio con i vlog con le cuffiette ma per il semplice fatto che sto editando il terzo video che va dai oggi oggi è il 5 marzo ieri avevo già girato una clip poi non ho più girato nulla con l'ho cancellata per di semplice motivo che a parte che ho fatto la pagina facebook che il link ve lo lascio qui e è nella anche nella parte della copertina che ho fatto del canale sto facendo non lo so del canale quindi andate a vederla ovvio lasciato anche l'instagram più avanti lo metterò lì già da oggi ma già da se questo secondo canale già da questo secondo giorno mi sono evoluta diciamo allora sto dicendo ho fatto questa cosa spero che piaccia la immagine copertina del canale spero che anche la la pagina di facebook piaccia mi sto impegnando l'università già queste due cose le ho fatte appena mi è possibile farò anche anche tutto il resto perché ho un piccolo problema ultimamente nel fare le cose ho già messo il bloccato movie maker tanto per cambiare volevo vedere un video un video un video un video una pagina facebook lo stesso ma la patina facebook la copertina sia per facebook che per il canale ho già fatto colazione anche perché sono le 11.3 in più voglio insieme a voi sistemare camera sperando di farcela ma è scelta cosa ci mette? ho provato a far così vediamo se funziona ok c'è caricato no non c'è caricato intanto ho il videoblog 28 sto caricando per le due mezza ho sistemato anche la pagina sto un po' sistemandola perché l'ho fatta ieri un po' alla volta metto video caricolo condiviso anche sul mio profilo facebook privato mettiamo altri count tipo installiamo ciao è vero che non mi l'ho da mi stagione nervoso perché non mi dà il profilo giusto? è giusto Instagram coppia non ho capito che non mi faccio installare non ho capito che non mi faccio installare boh vedrò come mettere il Instagram perché non lo fa aggiungere vabbè ci sta caricando un po' alla volta adesso vorrei aggiungerlo in Instagram anche sulla pagina sì scusate il buffolone lì davanti però non so nemmeno io cosa può essere ok l'ho messo su informazioni sperando che cosa nel fuori mamma mia ragazza questo posto anche spallo sulla mia pagina scritto le cose da fare da non fare allora fare pagina per canale e l'abbiamo fatta fare copertina canale fatta dopo aver creato la pagina mettere link del canale qualche video fatto più che scrivono maschile link fatto la maggior parte avevo fatti allora questo è fatto poi questo è fatto aspettate un attimo perché devo copiare ho già fatto la maggior parte delle cose che ho scritto in lista sono troppo felice aspettate che devo sistemare devo sistemare un pochino con l'impaginazione allora Grazie. Facebook non lo dà, giusto? Poi, la mancione. Andiamo a mettere i contenuti. Beh, ho solo 2-3 cose da si finire, poi ho fatto anche le altre, trovo contenta. Poi dopo scrivo bene i vlog, devo girare il play with me dopo. Appena finisco di caricare i video, potrei girare anche adesso? Sì. Eccomi qua. Allora, manca solo l'ultimo vlog di stasera e poi online. Sto editando il 31. Il 31 sto editando. Sì, oggi ho da imitare meno video stasera, devo torno a casa. No. Allora... 31 metri. Cioè... Non lo so. Ciao, il brufolo qui che avete visto tutta oggi, che è mezzo secco e mezzo no. dopo mi la può ancora con il detergente dell'aloe stasera. E quindi sono a posto. Sono un po' stanca oggi. Ma niente di che. Non si. Devo... Praticamente ogni giorno esce un video quindi... marzo è dal primo marzo giusto si escono video poi dovrò sistemare scriverli anche qui però intanto dal primo marzo ogni giorno esce un video fino a oggi che è lunedì quindi sono a posto o no la l'ergo sono stanchissima ragazzi e non ho fatto nulla ma è un periodo come sapete non bello per me da inizio gennaio a fine febbraio che ho avuto questi non stare bene e tuttora me lo porto avanti ma veramente ragazzi non ce la faccio tolgo gli occhiali perché devo andare dalla bimba e quindi mi conviene toglierli dopodiché oggi il postino non si è visto mi confidiamo in domani qui sta il 63% di caricamento e se no stanca qui il sole sta calando il sole si è mai stato brutto però c'è una luce per la stessa mattina dopodiché se qua si muovesse lo guarderei anche lo diterai ci sono una clip che non è ancora pronta però vabbè intanto guardiamo quello che è pronto sono contentissima l'elaborazione completata anche del vlog 30 quindi per oggi video online sono a posto ora sto salvando l'editing del video 31 e dopo due altri due video da editare per domani così li posso anche già caricare posso già pianificare il caricamento del video vlog play with me allora aspettate le faccio così e dopo scusate la mia faccia qua sotto che sono gonfia alle borse all'occhiaio ma ultimamente ho energia pari a zero e anche per quello che voglio ricominciare prendere i prodotti di Herbalife mi hanno sempre dato tanta energia e ultimamente ne ho bisogno l'ho fatto due mesi senza dormire tanto e quindi ho bisogno di di riprendermi soprattutto adesso che su due o tre settimane che amo molto ma molto e questo non va bene ho bisogno che riprenda i miei ritmi i miei ritmi è sguidermi la mattina alle sette e mezza o anche otto e ha magari letto alla sera alle nove alle dieci o non dici non di più non più tardi perché veramente se no le energie sono come adesso proprio terra da terra ok posso già caricare il play with me poi ieri mi sono dedicato ieri sera a fare la pagina la pagina e mi ha portato via quindi mi ha portato via parecchia energia non in quanto all'energia ma la testa che ha fatto tanto male mi ha portato via allora 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 ragazzi questa è un po' così strana vi do la buonanotte buonanotte e buongiorno quando vedete questo video edito l'ultimo video per domani con il mio minchietto qui quindi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao